Ancora? Ancora? Vai, vai, sta a fare i bici. Tarese che è grosso e cazzone. Ho anche l'automobile. Ah, stai? Buongiorno, auguro. Responsi di questo tiro? Tiro. No. No. Perché ti va rotti? Pare com'è? Forse, pare. Tu? Forse. Cioè, noi ci siamo messi male oggi. Cioè, oggi? Vai, tu fermati. Andone! Metterola, vieni. Quanti tiri ci mancano? Sì, l'ho messo a rompere le scatue. Alessandro, spiegati. Mettacina. Arrestare l'energia. E finisci da fare i video, per favore. Mettinarvi alla casa. Com'è? Tutto bene. Capitani, capitani, ecco. T'apposto? 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 T'apposto. Volevo cambiare due spazi da qua. Quanto è? Quanto è? Uno. Ehi, ci racconta io. Nicola, è l'energia. Vista come va? T'apposto? C'è un cuore tutta spettacola. Iscriviti al canale. Fa l'angelo. Ehi, attività. Vieni, vieni. That's the same from... Doi, va bene? Let's see. guardate il mister lui è il mister è il mister la parte di questa intervista lui è della PGG abbiamo fatto la tele potete squalificarlo anche questo mister si salta la gomma non mi prendi quel faccio ma questa mafia io volevo darmi più bello ma stiamo sopra ha fatto un bel video prima e dopo l'abbiamo mai 4 di ritenere 4 tu tu 30 4 la scendiamo da fuori con la stacca e ci mettono in passaggio lo zio Vattaro che fa il tiro che lo manda a San Giovanni ma guarda che non ha niente dei seguiti la cartone tutto da vedere che ci porta il presidente il sardegno a Dario facciamo il controllo scusa dove va che lo dico che è morto ma ora che fai che sono stile quello è brutta eh ma se allora se si fatti un bacio le magnelli ok quando andiamo a girare se lo dovete portare eh allora spettate quindicissimo tiro ultimo tiro per l'istante attenzione attenzione ragazze 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 arbitro arbitro dica dica 3-4 facciamo un pronostico staffo lo staffo dice chi vince ti vince è ardua è ardua testa testa quando ti rai ho andato ho andato secondo me vince l'anno scorso qua ce l'avevamo quasi vinto già stavamo tipo due 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 non pensavo che se la tirassero così eh pensavo che l'inverno vinceva facile invece la squadra non sta l'anno no non preoccupate se ce l'aveva la squadra pure stanno ci vediamo tranquino non lo so possiamo vinti adesso i player di tutti i tempi del formaggio siamo ahhh c'è 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 Anna 13 Allora, come andate sul gioco? Come mi hai fatto schifo? Come mi hai fatto schifo? Tutti a fare di meglio? Tutti a fare di meglio? Tutto dentro che cosa? Formaggio Se la vogliono? No, io tu ne cosa? Ne messica Allora